Pronta guarigione Buono E abilità tattica stimolante aumenta la tua decida del 30% per 6 secondi Ti costruirà della salute Ok, l'avevamo detto nei leak E ultimate il trampolino Allora, pass battaglia Ok, qui mi sembra figo Cerchiamo di capire un po' il contesto Ah, ok I rossi sono per Il pass premium Cioè il pass battaglia, quello d'oro di Fortnite Diciamo così E ti permette di guadagnare anche alcune cose Ok, ci sta Cos'è sto robo? Bonus pass battaglia Ah, ok Ok, ci sta Questi qua sono quelli gratis Ricevi pack up ex gratis Le varie skin Vabbè, tutto molto tranquillo Ah, i livelli 100 Raggiungi queste due cose qua Che è questo E questo Ok, la mappa è ancora canyon dei re Ma magari Se non sbaglio Ho visto una montagna innevata Che non ho mai visto prima Quindi noi ci catapultiamo Oddio, è migliorata anche la velocità del puntatore Buono Questo l'ho notato subito Perché è veramente buono Direi di catapultarci Non so parlare Lei Anche mi sembra il fatto Che è più movibile la visuale O sto sbagliando Cioè È più facile È più fluida la visuale Non so Probabilmente Sono cose che Sto notando io ora Ma C'è una Una persona qui sopra Ok Però io c'ho Pochissimi colpi Ok 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 Reloading Mi aiuti per favore Mamma mia Comincia veramente bene la cosa Comincia benissimo la cosa Ma va a finire male però Va a finire male No vabbè Vabbè è andata bene per un certo momento Poi me lo so beccato da dietro Giustamente che potevo fare Non l'ho sentito Ok io mi prendo questa bellissima zona qua No perché Così brutto Così brutale Dov'è la gente Mamma mia Così Me lo dici così Eh vabbè ma dai seriamente Dovreste sentirmi un po' meglio adesso Questa volendo È un'arma Versatile Perché può fare sia da G7 Sia da mitraglietta Sia da fucile d'assalto Come cazzo corre quel coso lì Bruttissimo Non so se è perché No tutte le armi così È bruttissimo il modo in cui corre Cioè non è umano Eh vabbè ok che non è umano Però Nel senso Non mi piace particolarmente Come modo di corsa No merda Oh oh Da dietro Da dietro Da dove Non ho capito Non sto capendo Non ho capito come mi ha ucciso Eh Non ho veramente capito come mi ha ucciso È stato bruttissimo È stato veramente bruttissimo Non ho capito come mi ha ucciso Cosa? Cosa è successo? Perché così? Perché in questo modo così brutale? Non c'è niente Fantastico Lasciamo l'arma Dai che palle Non ho Non ho un'arma decente Cioè sì L'arma decente ce l'ho Ma non la so usare Dai che palle Non ho più niente Mannaglia La puttana Quella là Perché sta da solo lì Perché queste persone qua Se ne vanno da sole Magari Sapranno pure capaci di giocare Però Porca miseria Esiste la squadra apposta Apposta Per non fargli stare da soli Che fanno Ne vanno da soli Non ho trovato niente di buono Comunque Magari qua Qualcosa di buono Questo posto non è stato lottato E sono contento Perché almeno posso prendere qualcosa di buono Oddio questo che cos'è? Ah no Semplice Ok L'avevo visto tipo di colore giallo Non l'avevo visto bene Merda Odio quando succedono queste cose Go bamboozle Go bamboozle Ho Shutta Reloading Recharging shields Bless me, a sight Frag grenade sent Send it on my decoy Reloading 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 Downed an enemy Bello Ok Beh Minchia Dai Potrebbe essercene un altro o no? No non credo penso che è eliminato tutta la squadra No Vabbè Preparisco le siringhe Ok dai ce la stiamo cavando per il momento dai sono quattro squadre Quindi 3x4 12 persone Sono 10 persone quindi Due squadre saranno da due Dovrebbe Dovrebbe essere così Sì sì A meno che una squadra non è da uno Oh bello quello Oh bello Oh bello Oh Oh No Oh Grazie. Giuro che era qua Merda 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 da dietro Lo sapevo da dietro Lo sapevo da dietro Porca miseria Stavo andando anche decentemente sta partita Ma vaffanculo Beh raga Tenta come andata Abbiamo provato a fare una partita decente Ma niente Io provo l'ultima del giorno E basta Stavolta andiamo di Lifeline Magari il medico mi ispira di più Non riusciremo a fare qualcosa di decente Vediamo Ok Allora E' già il secondo robottino nel corso di due partite Che troviamo Non è male Potrebbe andare meglio Se solo riuscissimo a fare qualche uccisione un po' più decente Regà Mi aiutate Merda Merda da dietro Mamma mia Che culo Sono senza nafta Aiutatemi Aiutatemi Dai l'ho beccato No dai che palle Merda Merda Va a fa culo Ma vai a cagare Direi che per oggi è tutto Noi ci rivediamo in un prossimo episodio Mi raccomando Se l'episodio vi è piaciuto Il nuovo pass battaglia vi è piaciuto Lasciate un mi piace E un commento Per farmi sapere che cosa ne pensate E noi ci rivediamo in un prossimo video Bella E noi ci rivediamo in un prossimo episodio